Durante le mie consulenze private, un tema spesso ricorrente, è legato alla vendita o all'acquisto a volte di azioni, di titoli, quindi l'azione legata all'apertura o chiusura di posizioni, come dire, sull'istinto, sull'impulso, senza un piano strategico, senza un piano operativo. E troppe volte accade questa cosa, che nel momento in cui magari una persona ha un portafoglio azionario, diciamo di 10 titoli, magari ce ne ha 8 in perdita, 2 in guadagno, la cosa che più di frequento ho notato è che queste persone vendono i titoli che sono in guadagno e non quelli che sono in perdita. E questa è una cosa parecchio sbagliata, perché comunque fa capire che alla base dell'operatività c'è un senso di agitazione, c'è un senso di prendiamo il buttino e scappiamo, come dire, contabilizziamo i piccoli guadagni che abbiamo realizzato senza appunto curarsi poi delle perdite che aumentano, 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 mese dopo mese, anno dopo anno, bienni dopo bienni. Un altro aspetto interessante invece relativo anche alle situazioni in cui magari capita meno frequentemente, sono sincero, però magari con clienti, con persone che vengono in consulenza, che però già sanno investire, ma che cadono spesso in questo tipo di distorsione. Cosa intendo? L'esempio più comune, quello più ricorrente magari di persone che vengono in consulenza avendo già un portafoglio comunque abbastanza interessante, sono a corto di liquidità e quindi devono effettuare quelle che io chiamo le scelte operative in condizioni di incertezza, ovvero magari liquidare un investimento per ottenere del capitale e con questo capitale effettuare magari un nuovo investimento su un titolo più promettente, su un titolo più pronto, diciamo a partire su un titolo comunque interessante. E molto spesso cosa accade? Che questi investitori vanno a liquidare la posizione migliore che hanno in portafoglio. Vanno a liquidare magari il titolo sul quale stanno guadagnando, che ne so, il 40, il 50, il 60%, non curandosi del fatto che in questo frangente, in questa particolare situazione in cui comunque si sta ottenendo un guadagno, quindi è una situazione che a me piace definire in cui è un non problema, bene, in questa situazione si va comunque a scegliere di sacrificare il miglior titolo per ottenere liquidità, quando la cosa più logica da fare sarebbe quella di liquidare il titolo peggiore, o comunque quello che va meno meglio, scusate l'espressione, però ci siamo capiti, in modo tale che liquidando il titolo che ci sta dando, o comunque delle performance inferiori, o magari il titolo che è in lieve perdita o in perdita a parità di condizioni, sarebbe la cosa più intelligente da fare, perché ricordate, se state generando una performance del 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100% su un'azione, non dovete disfarvene, perché probabilmente, molto probabilmente, avete in portafoglio l'azione migliore, nel momento l'azione migliore che il mercato sta apprezzando, quindi non dovete disfarvene, non dovete porre un limite ai vostri profitti, piuttosto, in queste situazioni di scelte operative, in condizioni di incertezza, andate a liquidare l'investimento che sta andando meglio il titolo in lieve perdita, oppure il titolo che, seppure in guadagno, vi sta generando il guadagno minore fra tutti i titoli in positivo.